Sono appena terminati i voti in Commissione Lavoro, primo step è raggiunto, abbiamo portato a casa una approvazione a larga maggioranza del documento sull'occupazione e sulle linee guida che il Consiglio darà agli Stati membri. In tre punti siamo riusciti ad inserire il reddito di cittadinanza, il reddito minimo come forma di tutele e garanzia per i cittadini che non hanno il lavoro. È un primo passo, è importante, quello che è importante è aver ottenuto un documento condiviso, abbiamo avuto il sostegno di tutti perché tutti capiamo quanto importanti siano le istanze dei cittadini e dei lavoratori e quanto necessarie siano le tutele per loro. Adesso il prossimo step è in plenaria luglio, stay tuned e grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.